Nella quasi sicuramente ultima seduta della decima legislatura, il Consiglio regionale della Calabria ha atteso la conclusione della riunione della Commissione Bilancio, convocata ieri mattina per l'approvazione degli atti propedeutici all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio della Regione Calabria per il 2020. Poco dopo le ore 17.30 i lavori dell'Assemblea sono iniziati ed è stata una seduta veloce. Approvati dunque il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2018, l'assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 con il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti. Approvato con l'astenzione del consigliere Giuseppe Pedà, Casa della Libertà, l'ordine del giorno di Franco Sergi, moderati per la Calabria, che impegna il Presidente della Giunta e la stessa Giunta regionale a trovare soluzioni e avviare interlocuzioni col Governo e i rispettivi ministeri per la stabilizzazione dei tirocinanti della giustizia calabrese, quelli degli enti locali, rientrati nell'ex vaccino dei percettori di mobilità, dei tirocinanti del MIBAC, quelli in servizio presso il MIUR e in ordine alla storizzazione dei precari della Regione. Per Gianluca Gallo, della Casa della Libertà, una risposta va comunque data. I tempi, dice, per il riempego di questi lavoratori sono lunghi, abbiamo accumulato gravi ritardi. Spero che questo ordine del giorno contribuisca a velocizzare i tempi. Giuseppe Aieta ha evidenziato la necessità di soffermarsi e discutere più approfonditamente di questo argomento, mentre Giannetta, di Forza Italia, ha stigmatizzato che arriviamo in ritardo nelle cose che contano nella Regione Calabria. Carlo Guccione, del Partito Democratico, che pur dando merito alla proposta di Franco Sergio, ha affermato che il Consiglio arriva lungo su un argomento che testimonia la mancanza di questa esperienza di governo in tema di lavoro. Bisogna fare un'operazione verità, ha ribadito l'esponente del PD, Guccione, per fare un'operazione su questo fronte. Resta il fatto, ha concluso, che consegniamo questo documento alla prossima legislatura, come promemoria al prossimo Presidente. L'Aula ha quindi nuovamente rinviato, alla prossima seduta di Consiglio, la proposta di legge per il riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria, su proposta del capogruppo PD de Metro Battaglia. È stata inserita all'ordine dei lavori e quindi approvata la proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, che prevede il conguaglio sulla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani per l'annualità 2019. Ciò a causa, ha spiegato l'assessore all'ambiente Antonietta Rizzo, dei maggiori costi che la Regione Calabria ha dovuto sostenere nell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani residuali dell'organico da rifiuti differenziati. Da un costo preventivato di oltre 87 milioni di euro, si è passati oltre a 102 milioni di euro. Giuseppe Giordano ha chiesto i motivi di una così alta sottostima delle previsioni che andrà a gravare sui comuni. L'assessore Rizzo ha risposto che la sottostima è di pesa dall'esplosione del sistema Roma, che ha creato l'emergenza invadendo tutte le discariche e fatto aumentare i prezzi di mercato.